Ci siete? Oh, guarda che belli adesso! Mamma mia, anche perché sono emozionata, no? Cioè, guarda qua, Vicenza Comics & Games, che bella che è! È spettacolare, eh! Vicenza? Sai vero che siamo a Milano Comics & Games? No, cazzo, Vicenza, scusami, non c'è la rossa caputo? Sì, ma c'è anche a Milano Comics & Games, oltre a che se era Vicenza. Oh, sono avanti, cosa vuoi che ti dica? Eh, no, non posso perdonarti, adesso ti devo dare una brutta notizia, ovvero che finirai l'inferno, perché l'inferno è per sempre, le anime non verranno mai redette e questa è la tua... L'inferno non è per sempre! Come non è per sempre? È una bugia! Quindi c'è una piccola possibilità per me, per diventare redenta? No, non è vero, non esiste, non esiste. Ma che poi, che familiare che era sta voce, mi ricorda qualcuno? Tutti si possono redimere? Ok, ok, forse mi è venuto in mente, chi è, chi è? Aspetta, guardiamo insieme, chi è? Mi viene in mente qualcosa, aspetta, aspetta, quella di... Heidi. No, non era di Heidi, era di... La Sirenetta. No, che... dai! All'Asbin Hotel! Dai, allora, ci assomiglia a quella di Asbin Hotel, forse è quella di Asbin Hotel, però vediamo se è lei, vediamo, vediamo, aspetta, eh. Regia, scusa, mi fai vedere qualcosa? Perché sono vecchia e non mi ricordo. Forse se la vedo mi viene in mente. Vedo? Eh, vedi, c'era anche qualcun altro. Doppia coppia. Non avere fretta. Tre me. Quelle sono solo due. Uno, due, me. I soldi sono miei. Ma io ho il coltello in pugno. Allora, se abbiamo tre desideri, prima di tutto voglio essere artefice del mio destino. Ovviamente riavere mia madre e trovare un fidanzato che sappia ascoltare. Sono April O'Neill, in diretta con nuove informazioni comprovate. Un mostro mosca sta attaccando la città, ma i ragazzi tartaruga insieme a un ratto, un cinghiale esotico, una pastinaca, un cuccodrillo, un pipistrello, una lucertola e uno scherafaggio femmina stanno combattendo contro il mostro nel tentativo di salvare New York. Il gigante mostro è il vero mostro e gli altri mutanti in realtà sono buoni. Scusate, è un problemino che ormai speravo di aver superato, invece no. Comunque, in quadra stretto... Sapevo che saresti venuto. Sin da quando ho delineato il tuo profilo per la polizia. Sono il tuo tipo. Quanti criminali devi ancora punire prima di sentirti appagato, Batman? Dieci? O forse venti? Chiunque renderà inoffensivo Batman darà a me una grande gioia e chi non lo farà è un uomo morto. Ascolta, non voglio ucciderti, però devo prendermi un po' di vantaggio per impedire alla tua sindrome dell'eroe di intralciare i miei piani. Hai cinque minuti per capire come uscire prima che la casa esploda. Quinzel! Forse la prossima volta potremo analizzare i traumi della tua infanzia. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Era tipo... No, tradimento! Adora! Ti prego, ora devi svegliarti! Non puoi arrenderti. Non ti sei mai arresa in nessun momento della tua vita. Neppure con me. Quindi non osare cominciare adesso! È troppo tardi. Ho fallito. No! No! Ci sono io! Non ti lascio andare. Non lo capisci! Io ti amo! Io ti ho sempre amata! Quindi ti prego solo per questa volta! Resta! Resta! Tu mi ami. Sei veramente un idiota. Ti amo anch'io. Mi vuoi ascoltare? Io sono la regina! Tu devi ascoltare me! È così ingiusto! Ah? Ingiusto? Non ti importa niente di me! Questa storia del matrimonio è quello che vuoi tu! Ti sei mai chiesta che cosa voglio io? No! Non fai altro che dirmi che cosa devo fare, che cosa non devo fare, cercando di farmi diventare come te! Beh, io non voglio diventare come te! Ti comporti come una bambina! E tu sei un mostro! Ecco cosa sei! Merita! Non sarò mai come te! Non farlo! Preferisco... ...morire che essere come te! Ma la speranza di Lilith non si spense. Il suo sogno fu tramandato alla sua preziosa figlia. La principessa dell'inferno. Non preoccuparti, mamma. Sarai fiera di me. Charlie. Cazzo! Hai sentito tutto? Ah, sì. Ero proprio lì. Scusa. Sono alquanto nervosa dopo lo sterminio. Non accetto... ...di fallire! È una grande opportunità! E scoprirò... Mi tocchi un po'? Ah, no, la ringrazio. Forse non sa che... L'inferno cambierà! Ci parti tu, Troy! Se il cielo ascolterà... In mezzo a questa merda ci sarà felicità! Perché oggi... Apriamo le porte dell'inferno! Per Rosa Caputo! Non cantare per l'uomo! La troia è troppo presa dalla canzone! Sì, sta ballando! Sento un'aria bruciare... Buonasera! Ciao, Rosa! Sempre un piacere! Allora... Ciao! Ciao, inferno! Qui a Milano, a quanto pare! Prego, signora, si accomodi! Ma grazie! Speriamo di non cadere! No, dai! Ok! Mi avete fatto piangere! Non potete mettermi la scena finale di Shira! Vi pare? Mi capite? Guardate, ci sono anche Catra e Adora nel palco! Voglio dire, è bellissimo! Tutto questo bellissimo pubblico per te! Grazie, grazie di essere tutti qui, veramente! Un applauso a voi! Anche perché comincia a farsi tardino chi è da tutto il giorno in fiera, giustamente, grazie veramente di essere qua! Ma sono rimasti fino all'ultimo per te! Mi sento molto fortunata, grazie! E adesso possiamo farti qualche domanda? Ci mancherebbe! Vai, andate! Allora, tu non sei stata solamente a questa fiera, praticamente stai girando l'Italia per andare da... In fiera, in fiera! E dimmi, escludendo il lavoro, che cosa ti piace di questo mondo? Cioè, ti ritieni una persona nerd? Allora, io sono una nerd incallita, come dice anche la mia pagina Instagram. Ben prima di frequentare le fiere come ospite, non l'avrei neanche mai immaginato, frequentavo le fiere quando erano buchetti piccoli così, cioè io sono andata a Lucca fuori dalle mura, cioè è proprio una realtà che non esiste più. Sono una grande collezionista di fumetti, action figure, quindi ho avuto anche un brutto, brutto periodo con Magic. L'ho dovuto mollare perché ero proprio fissata e adesso ho i dadi di D&D che mi mettono sempre in difficoltà. Quindi in realtà io sono una bestia da fiera, infatti a volte mi rendo conto che mi metto a girare e le persone mi riconoscono e voglio farmi fare le foto con loro e chiedermi gli audio, gli autografi. Io sempre mi stupisco di questa cosa perché sono abituata a girare per fiere indipendentemente da questo. Però sono felicissima di poter condividere anche questo lato delle fiere, è molto emozionante ogni volta. Visto che hai nominato D&D, ci parli un po' di D&D, che classe sei, che edizione giochi, che personaggio hai creato? Troppi. Io spero che qualcuno nel pubblico sappia qual è l'emozione enorme di giocare di ruolo, indipendentemente da D&D, Pathfinder, quello che volete. Ci sono mille sistemi ma il gioco di ruolo è magico, per me dovrebbe essere insegnato al liceo, anzi all'elementari. Io ho fatto un po' di tutto, ho cominciato con la 3.5 di Dungeon & Dragons, giocando un maestro da battaglia fino al ventesimo livello, quindi è stata un'emozione incredibile. Ho giocato con il mio compagno e la mia migliore amica, il social media manager Dora Bugatti, e abbiamo giocato questa campagna incredibile, che un giorno, chi lo sa, magari riuscirò a scriverci questo libro che vorrei scrivere tantissimo, o farci un fumetto magari. Poi siamo passati alla 5 e adesso in realtà anche con Riccardo Suarez, la voce di Angel Dust, giochiamo tantissimo. Noi abbiamo scoperto che avremmo doppiato Asbin Hotel durante una sessione di gioco che eravamo al tavolo insieme. E stiamo passando un po' a Pathfinder 2, che vi consiglio, perché non è difficile come la 3.5 di Dungeon & Dragons, però è molto interessante, è un sistema di gioco veramente fico. E se vi piace il gioco di ruolo, restate con le antenne dritte, perché io e Riccardo vi stiamo preparando una cosa che vi potrebbe piacere, quindi non faccio spoiler, però magari ne scopriremo di più andando avanti con questo progetto. Senti ma, tu comunque sei nata in una famiglia d'arte, insomma i tuoi genitori sono doppi attori. Mia mamma, dal lato di mia mamma, mio papà è psicanalista, quindi si spiega tutto. Bene ma non benissimo. Questa cosa, quanto ha influito nella tua vita? Cioè è mai stata pesante o comunque è stata d'ispirazione? Allora, nella mia famiglia non c'è solo il doppiaggio, ci sono registi, sceneggiatori, attori, musicisti. Mia sorella è una cantautrice, prima era doppiatrice, lei era la voce di Lilo e Stitch, di Lilo. Adesso vive in America e canta e scrive per grandissimi cantanti. L'arte ha permeato la mia vita, io lo ritengo un grandissimo privilegio questo, perché non è tipico di tutte le famiglie, però ha sempre i suoi pro e contro, soprattutto quando hai una dinastia del doppiaggio dietro. Cioè io e da mio nonno, quindi sono terza generazione di doppiatori, però sono l'unica, per esempio, da parte di mia mamma, tra le tre figlie che ha, ad aver continuato questo percorso. Perché quando ho scoperto che era il miglior gioco di ruolo, sempre là si va, che si potesse fare, ho capito che io non potevo fare un altro lavoro nella mia vita. E' sempre dura, tutte le carriere artistiche si scontrano con tantissimi ostacoli, tanta competizione, ci sono le mode, i metodi, alla gente magari non stai simpatico, soprattutto se hai un caratteraccio come il mio, se sei una maestrina come me, io sono della vergine, quindi capite che è un po' un problema non correggere gli altri, no? Perché pensiamo di essere tutte elette dalla divinità di turno e quindi è sempre difficile, però essere figlia d'arte ti permette di crescere e praticamente interiorizzare quest'arte fin da quando impari a parlare. Non esserlo ti mette in difficoltà a entrare in questo mondo, però poi magari non hai la costante pressione di dover tenere alto un nome, no? Invece io non soltanto questo, ma sento la pressione di dover dimostrare che il mio lavoro lo faccio perché lo amo, perché do tutto il mio amore e le mie capacità e non perché sono la figlia di, no? Che è proprio la cosa tipica del figlio d'arte, soprattutto nel doppiaggio. Online sei molto attiva, hai un sacco di progetti, fai un sacco di interviste, live e cose del genere. Volevo sapere che rapporto hai con la tua community? Io amo interagire il più possibile, sicuramente chi mi segue su Instagram sa che io pubblico talmente tante storie dove tutti mi taggano e cerco sempre di farlo perché quando una cosa mi piace voglio condividerla. Mi mandano tanti video i ragazzi, mi rendono partecipe della loro vita, non sempre posso stare dietro a tutto, perché non è il mio lavoro oggettivamente, però io sono felicissima di poter far parte della community e alcuni mi definiscono il baluardo della community dell'Ellaverse italiano. Quindi io sono lieta e a proposito non vi preoccupate che secondo me a furia di fare magheggi magari Hell of a Boss ve lo doppiamo dai. Secondo me ce la faremo! Ci riusciremo! Ci riusciremo! Si può fare, posso riuscire! E letteralmente. E a doppiare Hell of a Boss! Perfetto, è perfetto con i piedi! È un attimo. Visto che comunque tu ami tantissimo la tua community, cosa ne pensi invece degli haters o chi ti rema contro? Che ognuno ha la sua strada, nel senso che non incontro tanti hater, spesso forse hanno un po' paura di me le persone, perché io sono una che ti viene a rispondere e dice sì vabbè spiegami perché scrivi questa cosa, ma c'è un senso? Vabbè ok, bravo maestro, grazie, ci serviva il tuo. Quindi io sono quel tipo di persona che ogni tanto quando vede dei commenti magari proprio sgradevoli mi capita di radissimo, cioè io vedo tanto amore online, paradossalmente ancora. Speriamo che continui così. Io cerco sempre di essere me stessa e di rispondere con il mio tono, non per forza a tono. E penso che ognuno debba essere libero di manifestare le sue preferenze, le cose che non gli piacciono, però ci deve essere sempre il senso critico delle cose. Quindi io sono un grande baluardo della critica costruttiva, anche con la mia rubrica di microfono aperto su Instagram dove cerco di dare dei consigli o comunque far capire agli aspiranti doppiatori che mi mandano volontariamente i loro reel, non li obbligo, giuro, che in cosa sono carenti, in cosa possono migliorare, eccetera. Alcuni mi abitano subito come cattiva, no? Non siamo più molto abituati a subire la critica, soprattutto quando è molto dura, però magari è veritiera, ci fa soffrire. Quindi la risposta è la difesa. Io cerco di tenere sempre uno spiraglio aperto e di dire, ok, ma questa persona mi sta dicendo una cosa che è fattuale, che ha senso, oppure mi sta solo sputando veleno addosso. Quindi io cerco sempre di analizzare in questo modo e cerco di non prendermela, di non dargli peso. Invece un personaggio che tu hai doppiato, che è famosissima per le parolacce, nonostante lei sia la principessa di Dreamland, è praticamente... Proprio per questo? Esatto. Cioè, Dreamland è un postaccio. Esatto, tu sei proprio l'emblema di Dreamland. Secondo te, come mai Disincanto non è piaciuto quanto le altre serie di Matt Groening? Cos'è che non ha incalzato in Italia? Allora, intanto il titolo parla chiaro. Il titolo determina la serie, il mood della serie, no? Cioè, che ha un senso di amarezza profonda, un'oscurità anche nel suo humor, che rende il suo humor difficile, di difficile comprensione. Secondo me, già è dall'originale. Io mi ricordo quando lo adattavo, perché ho anche fatto alcuni adattamenti di Disincanto, che dicevo, ma dove vuole arrivare questa scena? E mi ricordo che facevo fatica a seguire il filo comico. E penso che invece i Simpsons e Futurama siano un po' più alla portata di tutti. Futurama, secondo me, è più nelle mie corde dei Simpsons. Ormai i Simpsons hanno parlato di tutto, quindi è difficile farsi prendere, no? Però trovo che in particolare Disincanto volesse raccontare un'altra storia. Lui non ci è riuscito totalmente, secondo me. Lo voleva fare meno episodico, no? Però l'ho fatto molto episodico, comunque, anche se c'è una linea continuativa. E penso che abbia un po' lasciato andare alla fine. Io ho sentito un finale che non mi ha soddisfatto, mi ha lasciato un po' insipido. Non farmi spoiler, perché l'ultima stagione mi mangia. Non dico niente! Però, insomma, perlomeno mora la sirena e Bin. Dai, li ha tofine, questo te lo posso dire. Però, ho sentito che mancava l'incanto, che è una serie che si chiama Disincanto Serve, perché sennò il pubblico non lo incanti. Se mi fai sentire solo il tuo disincanto personale verso le cose, no? Solo curiosità, quanti hanno seguito Disincanto? Vedi, comunque sono tantini, eh? Vedi, sì. Ti è piaciuto? Dai, vedi, alla fine... Cioè, a me è piaciuta moltissimo, mi manca tantissimo Bin, tra l'altro. Ho splegiato Tia Bini, sono nata per essere Tia Bini, quindi... Adoro. Siamo tutti un po' così inside. Sì, no, per forza. Infatti, ma poi mi fa ridere che io faccio un sacco di principesse strane. Faccio la principessa dell'altra produzione per Merida, ho fatto la principessa Poppy, che è una pazza di felicità, ho fatto, appunto, Bin, Charlie, sono sempre strane principesse, ormai è il mio target. Ma è giusto così, bello e diverso. E voglio farti una domanda a proposito dei tuoi colleghi. Ce n'è qualcuno in particolare con cui ti è capitato di collaborare in diverse occasioni, con cui ti sei trovata bene? Tantissimi, tantissimi. Noi siamo una famiglia, tutti quanti. Cioè, soprattutto, io parlo della piazza romana, perché purtroppo i colleghi di Milano non li frequento, ma la piazza romana, dove degli stabilimenti e delle società con cui lavoro io, cioè, quando ci vediamo ci abbracciamo, siamo proprio amici. Ho Edoardo Stoppacciaro, che fa Elfo e Serpentius, ho Nanni Baldini, che è mio zio. Cioè, io ormai, quando vedo Nanni, faccio... Nanni, uuuuuh... C'è pure la sua sigla, per quante volte lo vedo. Io con Oreste lo prendo sempre in giro, perché lui è un po' un nevrotico, che deve fare tutto bene, e io lo prendo sempre in giro e giochiamo così. Quindi, oltre alla mia famiglia effettiva, che frequenta le sale, io ho una grande famiglia, li ritengo tutti dei colleghi straordinari. Ho Valentina Favazza, che è una mia grandissima amica, la doppiatrice di Lute. Ma tutto il cast di Asbin Hotel, per esempio, sono tutti grandi amici, perché in un modo o nell'altro ci ritroviamo, ci incontriamo per le sale, e ci vediamo a volte più spesso di quanto purtroppo vedo il mio compagno, per dirne una. Allora, visto che l'abbiamo nominato, facciamo la parentesi adesso, così non ne parliamo più. Com'è stato lavorare ad Asbin Hotel? Perché potremmo parlare solo di Asbin Hotel, ma non è questo il giorno. Non è questo il giorno. Oggi è il giorno però in cui, appunto, vabbè, per me lavorare con Oreste è incredibile. Lui è un direttore completamente alieno, fuori dal comune, perché fa la sua versione, veramente. Penso che il successo di Asbin, a parte per la bravura o non bravura degli attori, dei cantanti, eccetera, sia proprio il suo cuore nell'adattamento, che lo ha reso un adattamento incredibile e molto italiano. Tanto che ci sono delle battute che esistono solo in italiano e che non si possono tradurre in inglese. E per me questo è il successo vero di un adattamento, di una vera localization a livello linguistico. E poi, vabbè, mille risate, perché lui scrive l'adattamento e poi fa davvero l'adattamento solo in sala, quindi era tutto un improvvisare. No, vabbè, di cin 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 rullà. Vabbè, ma Oreste, ma non ci entra. Lei dice, what are you doing? Io non posso fare piripicchio piccullà, ma perché, no? Quindi è sempre molto divertente questo processo creativo del cercare la battuta migliore, la soluzione linguistica migliore. È molto affascinante. Però cosa ne pensi della censura? Perché comunque, essendo un cartone che tratta temi anche di un determinato tipo, hanno dovuto per forza ricorrere a censura. No, no. Hasbeam non è minimamente censurato. Tutte le parolacce sono pronunciate. Non ci sono, per carità, scene Ose, particolarmente Ose, a parte nella quarta puntata che ci sono... C'è veleno che ha dei momenti un po' hardcore, però, giustamente, è una serie vietata ai minori di 16 anni, quindi io mi aspetto che non venga censurata. Anzi, mi dispiace che noi abbiamo avuto in Italia tanti, tanti esempi di censura gravissima, tipo su Lady Oscar, io non me lo scorderò mai, sul Sailor Moon, ragazzi, la carne da porco della censura che hanno fatto su Sailor Moon è terribile. Quindi, nel vecchio, ovviamente, quello anni 90, Crystal si è salvato, però, ecco, io sono assolutamente contro la censura. Per me, se un'opera non può essere vista dai piccini, allora significa che non può essere vista dai piccini e io posso dire un po' quel cavolo che mi pare, perché se lo dice in originale, tra l'altro, hanno fatto persino dei video, il cast originale di Asbin Hotel, dove facevano vedere, facevano tipo un, descrivi con soltanto parolacce il tuo personaggio, bellissimo, tutto censurato con i bip, però vuol dire proprio che è una campagna pubblicitaria fatta su questa cosa che, cioè, non ci dobbiamo pulire la bocca, noi nella vita le diciamo le parolacce, noi italiani tantissimo, tra l'altro, quindi, cioè, è assurdo non metterle, sarebbe stato sbagliato aggiungere cose che non ci sono, per esempio, alcuni fan mi hanno chiesto ma come mai non ci sono le bestemmie, ma stai scherzando? Ma che domanda? Ma perché loro, poi in America, perché non è stato doppiato in Veneto, Doisbo, ma perché loro in originale non esiste la bestemmia, quindi non la puoi mettere e poi, quello forse è un po' troppo, perché c'è un pubblico che magari gli dà proprio fastidio, cioè, la parolaccia, io già dico, vabbè, che ci frega. No, sì, comunque era rivolto in generale, scusa ho capito, no è colpa mia che sono in parte bionda, mi dispiace. Sono in parte però, vedo. Abbiamo visto anche una novità prima, no, nel tuo corto, parlo di Harley Quinn, questa nuova serie, l'abbiamo vista ormai in 50 sfumature, no? C'è stata una piccola preparazione per lei, visto che di solito è sempre alta l'aspettativa su Harley, dici un po' di questo ruolo. Allora, era il mio sogno da sempre doppiare un personaggio come Harley Quinn, lei è un Harley Quinn estremamente diversa e visto che abbiamo delle norme di sicurezza molto molto forti ormai nel doppiaggio, non è che mi hanno potuto dire granché, mi hanno detto, guarda, è una serie animata di un tizio travestito e tu fai una cattiva. Che detta così? Detta così tu dici, ma in che senso? Allora io, che sono una smanettona, sono andata su internet e mi sono andata a guardare tizio travestito. mi sono andata a guardare, ok, serie animate, prime video, prossime uscite e ho trovato Batman Caped Crusader. Quindi lì ho detto, ok, aspetta, chi c'è? Ok, ci sarà Catwoman, ci sarà Boh, abbiamo scoperto che c'era Pinguina, perché era un pinguino donna nella serie, è fichissimo. Beh, magari è la volta buona che faccio Harley Quinn. Anche perché me lo chiedono spesso, ma l'hai doppiata tu Harley Quinn? Perché mi confondono molto con Domitilla D'Amico che è onorata, però no, vabbè, lei è straordinaria su Margot Robbie, per lei non ho avuto granché modo di prepararmi in realtà, mi sono lasciata molto trasportare dal personaggio che hanno creato in questa nuova versione. Forse è stato meglio non prepararsi perché è molto diversa dall'Harley Quinn che siamo abituati a vedere secondo me. Se potessi scegliere, preferiresti doppiare attrici o personaggi dai cartoni animati? Sempre, io adoro tutto, però i cartoni animati per me sono sempre, non so, si crea una magia diversa col cartone animato, con, io per esempio sogno di doppiare più anime perché sono proprio fuori dal giro e mi spezza il cuore questo, ci sono mille anime che avrei voluto doppiare, che vorrei doppiare, quindi veramente spero di entrarci in quel giro e diciamo che l'animazione per me permette al doppiaggio di creare una magia diversa, una magia dove veramente respiri la vita e la tridimensionalità dentro al personaggio. Penso che Asbinotel ma anche Shira, Disincanto facciano notare quanto io amo l'animazione e il lavorare all'animazione, cioè io in Catra le ho proprio dato tutto di me stessa e lei mi è rimasta dentro, mi manca ogni giorno come una vecchia amica. Io vorrei sapere, è una cosa un po' particolare, se è un po' personale, tranquilla, lavorando internamente con le principesse Disney, com'è lavorare per Disney? Perché ultimamente si sentono delle cose un po' di nuovo Hitler, tipo, attenzione, per Disney non possiamo più fare niente. Allora, è che Disney è molto severa con la sua sicurezza, molto, molto severa e ci credo perché fanno attacchi hacker, ci sono un sacco di problemi ragazzi, cioè immaginate quanto è difficile sostenere una piattaforma streaming dove tu carichi tutto su un server magari della Disney e se io ti riesco a entrare in quel server tu hai lavori di anni esposti agli occhi di tutti, cioè in un'epoca come questa la sicurezza è indispensabile. La Disney, a me piace lavorare con la Disney, l'unico problema che trovo con la Disney è che tiene troppo, troppo vicino all'originale quindi non vuole far cambiare nessuna battuta cioè se Asby Nutella avesse fatto la Disney sarebbe stato impossibile cambiare qualsiasi battuta perché loro vogliono proprio la l'attinenza totale all'originale che per me purtroppo è un danno per il doppiaggio se noi non possiamo adattare è il momento in cui purtroppo non manca sempre qualcosa dici ah aspetta ma questa è tradotta dall'inglese e si rompe la magia immediatamente quindi è un peccato ma hai un sogno nel cassetto che ti piacerebbe realizzare? in realtà uno ve l'ho rivelato che è riuscire a scrivere o comunque a portare al pubblico questa storia di Dungeon and Dragons meravigliosa che abbiamo giocato perché è un'avventura straordinaria non mi metto a raccontarvi il pilot qua perché non mi sembra il caso di stare qua mezz'ora a parlare di una campagna di cui non sapete niente ho anche il sogno nel cassetto di riuscire appunto a riuscire ad entrare un pochino di più nel giro degli anime per il doppiaggio e ovviamente che questo lavoro continui così com'è ma anche con dei dovuti cambiamenti e delle migliorie io spero sempre di vedere un giorno il doppiaggio veramente rispettato da tutte le piazze da tutti i professionisti è molto difficile nonostante noi abbiamo un sindacato facciamo mille scioperi combattiamo per i nostri diritti ovviamente il mondo privato è molto difficile in un'epoca come questa e spero che insomma possiate ascoltare la mia voce ancora a lungo e se non ascoltare la mia voce almeno che io possa dirigere adattare delle opere che voi potrete amare e cioè per me non c'è emozione più grande di sentire una persona che mi dice oh mio Dio ho visto questa cosa quando ero piccola tu sei stata la mia infanzia mi fa sentire vecchia però è anche bellissimo quindi continuate a dirmelo che cosa hai perso diventando famosa c'è qualcosa che hai perso diventando famosa la libertà di girare per le fiere senza essere riconosciuta no a parte questo fai un cosplay così non ti riconoscono non dire queste cose perché io già voglio andare voglio fare una fiera non vi dirò quale dove sono vestita da Charlie e vado in giro a dare gli opuscoli dell'Asbin Hotel cantando e spero che nessuno mi riconosca la sai quella di Hugh Jackman che è andato al Comic Con vestito da Wolverine e gli hanno detto oh ma gli assomiglio un sacco ma gli assomiglio un sacco bellissimo quindi tu potresti magari andare in fiera e cantare la gente potrebbe dirti ma sai che la tua voce è assomiglia grazie oppure oh ci assomigli anche tu hai visto beh me lo dicono in tanti sarebbe bellissimo prima o poi lo farò e penso di aver perso la possibilità di semplicemente magari postare un video e fregarmene perché a me interessa parlare con la comunità però non è una perdita in realtà è un guadagno di una comunità che con cui posso avere più connessione quindi in realtà non sento di aver perso niente forse appena appena un po' la tua privacy magari un inizio madonna ma quello cos'è il moroso ma quello cos'è ma quello io mi tengo molto privato perché chi mi segue lo sa cioè io sono molto sul mio lavoro perché è la mia più grande passione adesso magari farò un po' più di cose sul gioco di ruolo e conoscerete magari di più Rocco che è il mio compagno che è il master dungeon master delle nostre campagne quindi perfetto però cioè la mia vita rimane la mia vita in realtà il doppiaggio fa parte di ogni aspetto della mia vita quindi io condivido quello il doppiaggio italiano però spesso viene anche molto scredizzato rispetto all'originale ci sono persone che dicono ah no ci sono i doppiatori italiani che non sono capaci è meglio guardare le opere in lingua originale tu invece che cosa ne pensi? ho fatto una bellissima live su Twitch con Marco Merrino a riguardo che spero che venga pubblicata anche su YouTube io penso che la cosa fondamentale sia sempre avere la scelta se io posso avere la scelta allora sono più felice mio padre per esempio è mezzo cieco da un occhio non ci vede non conosce bene l'inglese non fa in tempo a leggere i sottotitoli che facciamo? cioè allora non può più vedersi un film senza pensare anche a queste cose ma pensiamo al pubblico dei non vedenti quanto può fare un doppiaggio sicuramente ci sono doppiaggi bruttissimi ma brutti brutti aiutatemi a dire brutti però vorrei farvi notare che se vi andate a sentire gli anime doppiati in inglese agghiaccianti ragazzi ma perché nessuno ne parla di questa cosa? non lo sanno fare perché loro hanno la cultura del voice acting che è fare prima la voce e poi il disegno ma il doppiaggio voice over come lo facciamo noi non lo sanno proprio fare è una cosa terribile l'unica difesa che posso dare al doppiaggio inglese è are you crying di Gorgio che è diventato un meme vale solo quello poi tutto il resto va bene però vedi diventa giusto un meme però ecco secondo me però secondo me cioè ci sono delle cose bellissime invece del doppiaggio italiano ci sono delle perle bellissime delle serie che sono state addirittura salvate sto dicendo una cosa grossa ma ragazzi non so se lo sapete ma Frankenstein Junior che ormai è bello vecchiotto ha avuto un successo in Italia che in America se lo sognavano oppure ma guardate l'effetto di un bel doppiaggio odierno per esempio io penso che Asbin Hotel doppiato in italiano abbia avuto tanta risonanza proprio grazie al doppiaggio anche l'opera è bellissima di per sé però è molto di nicchia partiva da qualcosa di nicchia dal pubblico di YouTube di cui io facevo parte quindi non è detto che sarebbero stati attirati così tanto da un'opera se non fosse stata doppiata quindi secondo me non è neanche una questione di è meglio uno o meglio l'altro sono due opere diverse l'adattamento e il doppiaggio è sempre comunque un tradimento dell'originale per forza di cose ma allora leggiamoci Dostoyevsky in russo leggiamoci Kant in tedesco cioè nel senso noi vediamo tante cose che vengono adattate gli stessi manga che leggiamo magari da appassionati sono adattati quindi cioè secondo me è un'arte bellissima e ha la possibilità di essere molto bella se le persone poi si lamentano di un brutto doppiaggio il pubblico ha sempre potere ragazzi voi magari lo sottovalutate il potere che ha il pubblico ma se non vi piace una cosa e lo dite a gran voce fate le petizioni cioè guardate cosa è successo con Evangelion è grazie al pubblico non è stato nessun altro siete stati voi che avete chiesto insieme a me c'ero pure io no no quindi avete potere ragazzi ricordatevi la decisione spetta a voi siete voi le persone da cui le grandi case sperano di avere i soldini sulle piattaforme se voi potete dire la vostra fatelo avete un potere immenso lo abbiamo tutti da pubblico cosa ne pensi dei talent che vengono chiamati a doppiare secondo te tolgono comunque un po' di lavoro oppure i cantanti che doppiano i doppiatori che cantano che poi in realtà non sanno cantare l'influencer domanda scomoda puoi proprio mettere in difficoltà ma in realtà i talent ci sono da sempre cioè tutti i film che amiamo della Disney per dirne uno che so Hercules Aladin ma qualunque veramente tanti tanti film della Disney sono stati costellati dai talent qual è la differenza che un tempo si chiamavano grandi attori di teatro di cinema italiano o televisione italiana persone che avevano una grande grande formazione oggi è diverso proprio il talent quindi se tu chiami un cantante a fare un lavoro da attore doppiatore come può saperlo fare non è che perché lavora con la voce allora sa anche doppiare è un lavoro molto tecnico quello del doppiaggio molto difficile una specializzazione estrema è come dire vabbè ma lui fa il chirurgo lui fa lo psicologo fagli fare il chirurgo e dopo vengono fuori le cose tipo il re leone che vengono e lei beccia ma sai ma tanti tanti sono tanti c'è anche l'IT a cui ho partecipato io che è strano sentire si sentivano i doppi tre doppiatori e poi i talent a me faceva strano perché è come mettere uno strumento di un altro tipo magari che so stiamo suonando tutti i jazz e tu fai la polca capito e là c'è qualcosa che non quadra e penso che all'orecchio dia fastidio proprio per questo perché noi cerchiamo col doppiaggio di creare un'orchestra un'orchestra perfetta anche a volte mettendo voci strane voci particolari meno esperte chi lo sa o magari voci che non ti aspetteresti su determinati personaggi ma se ci metti il talent che al doppiaggio non c'è mai stato neanche vicino giustamente ci fa una brutta figura e a me dispiace perché mi dovete dire ma se un giorno uno chiunque di voi viene approcciato dalla Disney e vi dicono la vuoi doppiare la nuova principessa della Disney voi gli dite di no giusto gli dite sì immediatamente quindi immaginate un talent che si trova in quella condizione non è che perché lo fa per i soldi i suoi soldi arrivano probabilmente da ben altre cose ma io quando a me hanno detto che avrei fatto Merida io sono rimasta allibita cioè ho detto oh mio dio passerò alla storia per questa cosa perché la principessa Disney non la scorda nessuno quindi io non biasimo neanche il talent biasimo il fatto che un'arte come il doppiaggio venga determinata dal marketing che non è la stessa cosa cioè non si connette proprio mentre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale che al mondo d'oggi sta prendendo piede su qualsiasi cosa cosa ne pensi? io non sono contro l'avanzamento tecnologico sarebbe folle non dovrei avere un telefono non dovrei avere una sigaretta elettronica non dovrei fare fare niente nella mia vita praticamente se non avessi la tecnologia odierna e se non stessi al passo ma sicuramente non credo che sia sano o intelligente e saggio permettere all'intelligenza artificiale di soppiantare l'uomo e di schiacciarlo piuttosto che affiancarlo quindi per quanto mi riguarda è un'aberrazione quello che fanno con le nostre voci e se nel pubblico ci sono persone che sono fan dell'IA vi prego non prendetela sul personale ci sono tante persone io ho avuto anche persone che hanno campionato la mia voce che riceveranno presto lettere dai miei avvocati per questo motivo per noi è il nostro tesoro la nostra voce è la cosa su cui noi buildiamo tutta la nostra carriera ma non soltanto io leggo io sento nella voce delle persone la loro anima e se tu mi stai rubando l'anima per farci parlare un computer con quell'anima è una violazione del mio essere umano non dei miei diritti o del mio lavoro quindi io penso sempre che è bello avere uno strumento del genere è una cosa fichissima è brutto se invece di usarlo per che ne so operare a cuore aperto la cosa per cui servono delle una precisione incredibile che all'umano a volte è preclusa invece la usi per l'arte che è l'unica cosa che a mio parere da misantropa rende bella l'umanità è l'arte è ciò che mi fa redimere l'umanità allora arrivederci grazie vado a vivere ai tropici finché non finisce il mondo tanto è qua dietro la fine perché veramente se la macchina soppianta l'arte allora per me possiamo dire addio a tutto quello che amiamo anche di queste fiere anche di questi eventi del mondo nerd del mondo di nicchia diventa tutto grande produzione poi un giorno crollerà il capitalismo arrivederci grazie quelli che facevano arte non ci saranno più saremo nei musei a fare l'arte per loro l'inferno dovrebbe essere per sempre hai elencato le parti negative dell'IA però prova a pensarla in positivo tu dici un domani io potrei lasciare in eredità la mia voce a chi sto studiando magari un domani che non ci sarei più oppure banalmente se io ti dicessi che tu potessi donare la tua voce a chi voce non ne ha tipo un malato di SLA cose del genere saresti più d'accordo no in nessun caso anche a fini didattici ma allora allora pensa che bello se fosse il figlio il nipote il padre di quella persona a dargli la voce o un amico una persona che lo conosce profondamente cioè tra l'altro ragioniamo su una cosa un algoritmo stiamo paragonando l'algoritmo di un'intelligenza artificiale a un'anima perché la voce è tale non perché hai le corde vocali così la conformazione non è solo questo come utilizzi la voce è come è un risuonare della tua anima io se dico ti amo e lo dico davvero è un ti amo che viene dal mio cuore e sapete che è dal mio cuore perché lo dico in quel modo l'IA impara che dicendolo in quel modo sta dicendo ti amo per davvero ma non nasce da qualcosa di reale quindi lo dirà solo per i suoi calcoli in quel modo io non calcolo niente io sono qui a vivere e a esistere e penso che per carità per scopi didattici si può fare ma non venderei la mia voce quindi la mia anima per poter dare la voce a chi non ce l'ha non penso che vorrebbe la mia cioè pensa che è strano che tu non hai una voce allora va bene nel catalogo scelgo quella di Rossa Caputo tu parli e tutti ti dicono ma è la voce di Rossa Caputo è surreale secondo me cioè allora creiamo nuove voci creiamo voci nuove che non si sono mai sentite magari mescolando la mia quella di Eva Padovan e quella di Valentina Favazza ne crei un'altra allora lì lo posso già capire mi dispiace che succeda perché poi quelle tre attrici magari sentiranno un'intonazione che è la loro o un modo di parlare e di rivolgersi alle persone che riconoscono come proprio però è già una reinvenzione ma se devi prendere la mia voce e utilizzarla a quello scopo lo trovo riduttivo della voce stessa non so se mi spiego parliamo di lei no? adesso parliamo proprio di Rossa ti togliamo proprio dal tuo lavoro ti togliamo da te stessa una tua giornata tipo tu ti alzi e cosa fai? allora io mi alzo tardissimo sempre in ritardo sono costantemente circa mezz'ora prima di fare qualunque cosa devo avere un impegno per alzarmi prepararmi di solito mi alzo verso le otto e mezza mi preparo di corsa di corsissima sempre senza non mi faccio i capelli non mi trucco non mi faccio le u... non sono proprio quel genere di persona vado dritta al lavoro dalle nove e mezza spesso fino alle sette e mezza con una pausa di un'oretta dalle dodici e trenta alle tredici e trenta che a malapena riesco a scofanarmi qualcosa soprattutto quando sto in dieta capirai torno a casa alle sette e mezza dopo aver diretto o magari dopo aver passato anche la giornata ad adattare a casa al computer torno a casa se è martedì gioco a Dungeons & Dragons fino alle tre del mattino possibilmente e il giorno dopo si ricomincia se non è martedì spesso sto a giocare con il mio compagno ai videogiochi per esempio adesso stavamo finendo Rain World che è un vecchio gioco della Playstation 4 che è stato rimasterizzato e abbiamo finito Cult of the Lamb l'ho adorato e giochiamo ai videogiochi ci guardiamo ci stiamo guardando Twin Peaks coccoliamo il nostro figlio peloso che è un cane è un maltese bellissimo nuvoletto e niente poi a volte faccio qualche video a volte vado a mangiare al coreano dietro casa che adoro però insomma la mia socialità io sono un'eremita in realtà il mio mondo sociale è il gioco di ruolo quindi ogni volta che ho la fortuna di giocare con i miei amici martedì giovedì venerdì facciamo anche quattro volte a settimana per quanto mi riguarda sono sempre felice e nel weekend di solito vado a trovare i miei genitori che se no non li vedo mai poverini no comunque sei una persona molto profonda e grazie e volevo chiederti a proposito di perdere di saggezza qualche proviamo qualche consiglio per le nuove generazioni che cosa ti piacerebbe donare a loro anche chi ti segue chi ti supporta è l'ultima domanda quindi lasciamola col patos lasciamo che gli riscordi qualcosa allora ragazzi vi prego sembrerà una banalità ma non abbiate mai paura di esprimere voi stessi quello che vi piace quello che amate io ho vissuto un'adolescenza in cui essere una nerd era una cosa orribile quasi una una vergogna una lettera scarlata da portarsi addosso io però ho sempre tenuto la testa alta e vedere questo trionfo del mondo nerd mi commuove tantissimo quindi non abbiate mai vergogna non badate troppo al giudizio altrui in un'epoca come questa fregatevene di quello che gli altri pensano di voi cioè voi tanto alla fine siete voi stessi che vi vedete più di chiunque altro con cui dovete convivere amate voi stessi al di sopra di qualunque cosa non per egomania non per essere autoriferiti ma perché se non amate voi stessi le persone attorno a voi non sapranno come amarvi non sapranno che via trovare dentro di voi per capirvi davvero e sapere chi siete accettate il fatto che è vero in realtà siamo tutti soli si nasce soli e si muore soli ed è bellissimo questo perché in realtà essere vivi significa scegliere una forma poi noi ce ne torniamo nell'etere a diventare un prato l'aria che respiriamo siamo tutto e ogni cosa quando non siamo noi quindi godetevi questo corpo che avete godetevi la vita che avete gli errori che fate i dolori che patite custoditeli non sono arrivano sempre per un motivo per farvi riconoscere la bellezza del mondo quindi siate voi stessi non abbiate paura del giudizio degli altri e godetevi questa vita in ogni sua sfumatura e allora adesso prima di mandarvi al meet and greet non scappate restiamo con una foto tutti insieme dai facciamo una foto Charlie saluta i tuoi le tue anime redente le mie anime spero che vi ridimiate tutti ragazzi venite all'Asby Hotel mi raccomando così faremo gli esercizi di fiducia va bene fatemi sentire sulle mani per nozzacaputa rossa girati verso la nostra gilda sulle mani demoni ci sarà felicità dai ragazzi al meet and greet adesso al meet and greet non vedo l'ora di abbracciarvi tutti ok allora adesso rossa non scappa la fiera sta chiudendo però mi raccomando non andate a casa perché appunto rossa vi aspetta vicino le casse per il meet and greet fuori tutto il food and drink rimane aperto ci saranno i concerti fuori c'è lo Spork che meraviglia sì esatto facciamo casino quindi passiamo insieme il sabato sera quindi preparatevi in fila qui fuori vicino le casse per rossa Caputo ciao a tutti a fra poco eh grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti